Ciao ragazzi, io sono Redd e questo è il Monopoly Softair Shop. Finalmente posso recensirvi la nuova serie di mitragliette Reaper di Evolution. Sono veramente carico, perché finalmente qualcuno sposta dal podio G&G, che sotto questo aspetto aveva dominato fino a qualche tempo fa, dominato per mancanza di competitors, mettiamoli in questi termini. Ci sono un sacco di cosa dire, ci sono un sacco di aspetti di cui parlare, cose che mi sono piaciute, cose che non mi hanno convinto a pieno, perché riteniamo che queste siano le nuove mitragliette per il softair in Italia. Sigla che poi partiamo. Ormai hai visto che sul sito del Monopoly ci sono delle incredibili offerte? Sì, perché se non lo sapete c'è un'incredibile promozione di Natale da Monopoly Softair Shop, ovviamente. Ovvero con spesa superiore a 100€ riceverete una pallina di Natale serigrafata stile Monopoly e potete partecipare al mega torneo di Natale, ovvero avendo una di queste palline di acquisto, il vostro numero seriale verrà messo all'interno di un magico cappello, da cui noi estrarremo tre vincitori che possono vincere in ordine una M9A3, signora pistola, tra l'altro la versione black, la mia preferita. In secondo posto uno speedloader della Odin, e spero di beccarlo io, perché sì, sto partecipando in maniera abusiva al torneo. O tre, un accendino della Clow Gear, veramente comodo da tenere sul setup, perché è anti-vento. Torniamo al video. Tanta, tanta roba, questa è la prima cosa che voglio dire, perché troviamo tutte le features che ho adorato sui ghost, che secondo me rendono ghost, la serie ghost di Evolution, ovviamente mi sto riferendo a questi bamboli qui, veramente superiore, veramente perfetta, soprattutto per il nostro mercato, con le aggiunte dovute per far sì che funzionino molto bene come piattaforma SMG, quindi mitraglietta. Vediamola più da vicino. Primo elemento importantissimo, il caricatore da 9 mm, ovviamente. Su questo vorrei soffermarmi in seguito, perché ci sono delle cose da dire. Si aggancia perfetto. Bello. Gustoso. Come tasto di sgancio non abbiamo ovviamente il solito bottoncino, ma abbiamo questa livetta stile G36, che ci permette di andare a sganciare il caricatore. Si aggancia in maniera perfetta e mi piace veramente tanto. Ho abbassato la luce perché mi stava rimbalzando in faccia anche lo spirito santo. Per il resto sono praticamente identici con tutti i pro dei ghost, ovvero troviamo il paramanino-alumino aeronautico stile M-Lock, con cui siamo abituati. In questo caso c'è il silenziatore, ma dopo parliamo di tutti i vari modelli e configurazioni. Calcio normale, selettore di fuoco che... Che bello. E fine qui. Sostanzialmente cambia il lower receiver perché ha il ricevitore da 9 mm, il caricatore e il tasto di sgancio. Benché ci siano delle altre cose da dire e che mi piacerebbe affrontare con voi dopo aver visto la serie di modelli completa. Partiamo con la mega carrellata per vedere tutti i modelli di Evolution. Sono veramente spettacolari, ci mettiamo poco. E una domanda che so che già scriverete nei commenti e ve la tolgo dalle balle subito perché prendere un 9 mm quando posso prendere un fucile corto 5-56 quindi col caricatore da M4 perché a parità di peso potete portare più caricatori. Se non vi basta la motivazione per estetica, per logica, per un po' di realismo, c'è quella. Potete portare un botto di caricatori con meno spazio e ha un'ergonomia completamente diversa. Ovviamente essendo Evolution troviamo i modelli che vanno dalla XS, il più corto, ovvero questo, fino a SM. Ovviamente l'altra differenza può essere il calcio o la volata, ovvero trovare un silenziatore o un calcio PDV come questo. Partiamo quindi dal primo modello, ovvero un XS PDV, quindi con calcio PDV, canna ultra corta e impugnatura. XS identico all'altro ma con calcio crane, quindi da M4 normale. Modello S, quindi canna un pochino più lungo, con calcio PDV. Questo a me piace veramente tanto ragazzi perché insomma è proprio la mitraglietta con le lunghezze e le fattezze che piace a me. Sempre modello S, al posto che calcio PDV, calcio stile M4 crane in 5 posizioni. S, calcio crane e silenziatore che ha messo a fuoco solo adesso. Come potete vedere, questa ovviamente la volata rossa come tutti i modelli Evolution la potete andare a rimuovere, basta scaldarla e sganciare la colla per essere venduti in Italia i prodotti. Devono tenere questa cosina qua. Ultimo modello, ultima chicca, ultima sberla perché questa roba veramente ci sveglia e dà una svegliata al mercato. Modello M che come per i Ghost è disponibile solo in versione amplificata. Quindi qui dentro c'è il porcofono. Potete ovviamente andare a togliere come ho già detto la volata rossa qui davanti e poi è possibile andarlo a smontare. Si può fare per montare un ampliatore di canna, a montarci un silenziatore interno e il resto personalmente è veramente tanta tanta roba. Anche perché è il preferito di War, ma ve lo dirà nel War Rage. Ora che conoscete perfettamente tutto il team, tutta la nuova squadra di Reaper 2 Evolution, passiamo a esterni, interni, War Rage, prova di tiro e anche un abbraccio. Non mi sto a ripetere, parlerò solamente delle features che mi hanno impressionato di più. Ovviamente troviamo un lower receiver in polimero, che è un ABS rinforzato sostanzialmente, upper receiver sempre in polimero e paramano in alluminio aeronautico, quindi è super leggero ma super resistente. Ovviamente con taglio M-Lock, con la solita qualità Evolution che personalmente è veramente tanta roba, vi permette di andare ad attaccare vari tipi di accessori stile M-Lock su questo affare, è la cosa più moderna e più utile che potete utilizzare. Per essere poi ancora più specifici e corretti, il corpo in polimero è Carbontech, ne avete sentito parlare in 200.000 salse, tutte le volte che parliamo di Evolution parliamo del Carbontech, ovvero sì, ABS rinforzato, però si piega ma non si spacca. Mentre il paramano è un EMR, Evolution Modular Rail. Evolution Modular Rail, ovvero Evolution Rail Modulare, quindi potete attaccarci un pochino, quello che volete, è sempre M-Lock. Il calcio ovviamente, come avete visto, io ho preso il PDV perché è quello un pochino più caratteristico, particolare, è presente anche quello standard con il tubo del calcio M4 e il calcio M4, che poi è compatibile con altri tipi di calcio, quindi se li volete cambiare, non the problemas. Tacche di mira Flip Up, sono solite tacche di mira Evolution, personalmente gli do poca importanza, non hanno un livello altissimo, anche perché sono delle repliche, tra l'altro almeno loro le includono, a differenza di UFC che ormai non ce le mette nemmeno più dentro. Sono veramente buone, rimangono ferme lì, sono sostanzialmente da tenere sul fucile, abbassate e se vi muore il dot, mirino, opto elettronico che state utilizzando, potete tirare su queste e fanno il loro sporco lavoro. Adoro, adoro che mettano ovviamente il paramano, l'impugnatura frontale e angolare, per me questa è una delle migliori, tra l'altro, di uso praticamente solo questo sistema, potete andarci a taccare quello che volete, inclusa c'è questa angolare corta. Selettore di fuoco, veramente tanta roba, scatta in maniera perfetta ed è esattamente così che lo voglio, non ha giochi quando lo mettete in posizione e rimane fisso, solido nella posizione che avete impostato e tenendo conto che avete la possibilità di sparare in raffica controllata, questo è essenziale, ma ne parleremo negli interni. Fast trigger, grilletto elettronico, tanta roba anche questo, ovviamente ci siamo abituati bene con i Ghost, non potevamo trovarci male con questo, quindi veramente molto ottimo, nella prova di tiro vedrete quanto è comodo avere fast trigger così e quanto permette di sparare velocemente, oltre che ovviamente grazie al sistema interno. Leva d'armamento standard, ci permette di andare ad accedere al hop-up, funziona veramente bene, niente infamente, non troviamo il blockage funzionante, ma insomma sarebbe stato strano trovarlo. Questo è il suo caricatore fatto in polimero molto light, non mi ha fatto impazzire all'inizio e rimango un po' della mia idea, mi piace che sia monofilare, quindi non troviamo il rotellino sotto, mi piace che sia una specie di replica di caricatore Glock perché 9 mm è, non mi sembra, da quello che ho potuto vedere, che ci siano dei problemi grossi, si va ad agganciare perfettamente all'interno della replica e vi dico anche che personalmente questa è la cosa meno importante di tutto perché questo modello è compatibile con caricatori della RP9 GNG, con PTS, quindi potete montarci già direttamente in PTS e dubito che prenderete per forza questi. Sappiate tra l'altro che, per quanto siano senza infame, senza lode, costano tipo un terzo rispetto che quelli degli altri competitors, quindi se siete uno che vuole lanciare i caricatori in giro, con questi potete farli perché tanto non costano niente e la possibilità che si spacchi un monofilare è molto bassa. 110 colpi di divertimento, niente rotella, niente loghi, un pochino, come posso dire, senza personalità a differenza del fucile, ma ce n'è già abbastanza sulla replica principale. Passiamo agli interni. Per parlare degli interni vi porto il mio modello preferito, è quello che offre più libertà in generale, ampio spazio all'interno del calcio, nel caso ci vogliate montare l'impossibile, quindi una Titan, metterci delle batterie ultra minchiola, eccetera, tipo delle Titan a otto celle, ok? Qui dentro ci stanno e personalmente la lunghezza del paramano è perfetta, ovvero il modello S. Come vi ho già detto troviamo il modello XS, S ed ML, non c'è perché insomma andare in giro con un nastro trasportatore di fucile e un caricatore da 9 mm non ha molto senso, io sono pienamente d'accordo. Come interni cosa possiamo dire? Possiamo dire che troviamo una ETS 2 centralina di Evolution che ci ha regalato gioie infinite, che continuiamo a spingere come il miglior sistema interno da utilizzare in Italia, vorrei continuare a ricordarlo perché abbiamo qualcosa fatto in Italia, finalmente pensato per il nostro mercato, non robe che vengono da altri paesi adattate sul nostro mercato e che quindi non performano allo stesso modo. Calmo, mi ricentro. Troviamo quindi tutte quelle features a cui siamo stati abituati. Grilletto elettronico, possibilità di andare a impostare la centralina dal grilletto e fargli fare tutta una serie di cose. Quali sono queste cose? Raffica controllata da tre colpi, raffica controllata da cinque colpi. Nel caso poi siate malvagi e vogliate il sangue, c'è anche il ramping full auto che sostanzialmente dopo che fate la prima raffica da cinque o tre colpi e tenete premuto, lui capisce che avete voglia di sodomizzare il nemico e comincia ad andare in full auto, tornando poi la raffica successiva a tre o cinque colpi. Active brake, come al solito rilevaggio, rilevamento di corrente bassa, come si dà la luce in italiano. Comunque capisce che la vostra replica sta utilizzando le batterie che hanno bassa potenza e vi ferma in modo tale da non rovinare il fucile, non rovinare la batteria. Una batteria. Completamento ciclo automatico, quindi il fucile finisce sempre il ciclo prima di ripartire, non si pianta a metà spaccando tutto quanto, compreso gearbox, motore, ingranaggi, maroni. E ultima parte, diagnostica completa del motore. Questo significa che nel momento nel quale la vostra replica percepisce che qualcosa non sta funzionando, blocca il sistema. In questo caso il motore, ma in generale, come vi ho già detto, appena lui rileva qualcosa che non va, si ferma. Ci tengo a sottolinearlo perché io personalmente che avevo ARP9, finché non ci ho montato sopra una Titan, non riuscivo a farlo funzionare, perché non andava, non avevo qualcosa che andava a gestire tutti i componenti interni per far sì che funzionasse. Appena lui sentiva che qualcosa non gli andava, si muoveva un filo, perché c'era bisogno di qualcosa che controllasse quello che stava succedendo all'interno. Qui ce l'avete già di serie, funziona veramente molto bene e tra l'altro, Dulcis in fundo, fundus, fundo tutte le volte, non mi ricordo. Dulcis in fundo, siamo d'accordo? Dulcis in fundo? Dulcis in fundo. Abbiamo il binario. So che la maggior parte di voi ama il binario, sì, a te piace il binario, eh? Angolo per i nuovi arrivati, che cos'è il binario? È semplicemente un sistema centralina che vi permette di sparare quando permette il grilletto e quando lo lasciate andare. Quindi sparate sostanzialmente due colpi e vi permette di sparare in singolo, ma a velocità molto alte. quindi pam 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 pam. Ultima nota sulla centralina interna, per quelli di voi che ovviamente ne vogliono sapere qualcosa, Titan Gate sostanzialmente non è sempre una buona soluzione. Punto 1. Montare una centralina estera, quindi montata all'estero per il mercato italiano, non sempre è una buona cosa. Abbiamo trovato molte Titan Gate montate male su fucili di serie. Altra cosa è che Titan non è altrettanto reattiva come questa centralina, come le TS2 di Evolution, quindi a nostro parere rimane insurclassabile per ora. Sapete benissimo che momento è, sentite già la musica di Doom che sale e la voglia di sangue che si avvicina, vi comunico però che la prova di tiro non sarà qui ma sarà su Instagram, quindi veniteci a seguire, trovate tutti i link in descrizione compresi ovviamente quelli di questi incredibili modelli, veniteci a seguire su Instagram perché la troverete lì. Mi dispiace però così ci venite a seguire su Instagram e non vi perdete le promozioni, quindi in realtà lo stiamo facendo per voi. Mentre lo dicevo è andato via la luce e il demonio sta venendo a prendermi. Ecco il demonio. Warrage, allora, lui gli ha fatti vedere e ha tenuto in mano l'S, io tengo in mano l'M. M come macchina da guerra. Perché tengo in mano l'M? Perché in realtà come poi nelle armi vere sta partendo sempre di più la moda delle carabine medio-lunghe con caricatore da 9. Perché? Nella realtà perché il 9 non costa un po' come munizione. Invece il 5.56 costa tanto, quindi chi va al poligono preferisce sparare ovviamente con un 9. A me personalmente non disturba l'arma lunga col caricatore sottile, anzi è una linea un po' meno vista, preferisco. Ma dove lo critichiamo? Lo critichiamo sul caricatore. Ma non tanto perché sia un brutto caricatore, anzi paragonato a quello che c'è sul mercato probabilmente è uno dei caricatori più sensati che un essere umano possa acquistare. Ma preso singolarmente a me personalmente non piace. Non piace perché se il fucile è fatto di un polimero spettacolare, meglio di qualsiasi altro polimero che ci sia nella stessa fascia di prezzo, ma anche se volete 100 euro sopra, il caricatore ha un polimero diverso, molto più plasticoso, molto più croccante al tatto. Se andiamo a confrontarlo con qualcos'altro, ad esempio qui abbiamo un RP9 GNG, quello monofilare, entrambi mono, abbiamo già la prima differenza. Il GNG è più alto di quasi 5 centimetri. Fanno la differenza. Quindi uno sospetterà che il vestaglio più lungo contiene di più. No, contiene 60 colpi contro i 110 che contiene l'Evolution. Il polimero dell'RP è leggermente diverso, forse un 1% più bello, possiamo dirlo sì, ma abbiamo di contro che la forma del caricatore in sé non ha minimamente senso, perché ha questi puntini, ce li ha anche dietro, senza indicare niente, questi hanno avuto la decenza di metterci dei similoghi da caricatore Glock, passatemi il termine. Quindi, costa il doppio, costa letteralmente la metà, contiene quasi il doppio, contiene la metà, quindi per quale motivo dobbiamo starne a parlare? Ovvio è che sono intercambiabili. Ah, ma quindi posso montare il zoom dell'RP sul Reaper? Assolutamente sì. Ma quindi posso montare i caricatori PDS da 140 monofilari sul Reaper? Assolutamente sì, ma come dicevo, preso fuori contesto, preso da solo, così mi dessero in mano questo caricatore, non mi piace il polimero, non c'è niente da fare, aggancia bene, spara bene, ottima capienza, corto per fortuna perché troppo lungo era strano, ma il polimero non mi gusta. Poi lo contestualizziamo e diventa un ottimo caricatore, quindi per fare questo voreggio ho dovuto cercarmi il difetto, prendendo e strapolando un caricatore dal suo contesto, perché un caricatore da 16,90 che contiene 110 colpi e va così bene di questa lunghezza, soprattutto, monofilare, non lo trovate. La Specna gioina questa partita, cerca di clonare in tutto e per tutto questo, senza capire che non ha senso clonare un progetto che funziona così e così, Evo l'ha fatto per i cavoli suoi, non è clonato da nessuno, ripeto, assomiglia a quello della Glock. Pesa meno, approvato se contestualizzato. Quindi, come lo critico? Vorrei che ci fosse l'Uldopen. Cosa ne penso? Secondo voi cosa ne penso? Penso che siano stupendi. Personalmente, che adoro avere una replica lunga per il boschivo, o per quando voglia di mettermi in gioco, e una replica corta, tendenzialmente mi piace andare con una mitraglietta, non mi piace prendere un fucile che ha una canna così, un caricatore largo così, ok, per gusto mio personale, trovo che queste mitragliette siano perfette. Cioè, è letteralmente quello che questo mercato, in Italia soprattutto, necessitava. E potete dire quello che volete, che siamo fan Evolution, che siamo fanboy Evolution, che vogliamo spingere Evolution, ma i dati parlano chiaro. E le prestazioni di questi modelli, anche in funzione della prova di tiro, sono spettacolari. Nota importante, Evolution non ci paga, non ce l'ha pagato, anzi, siamo noi che paghiamo l'oro per acquistare questi prodotti, quindi non siamo di parte, siamo dalla parte dei prodotti buoni, dei prodotti che funzionano, delle cose che sono vantaggiose per voi, e ovviamente anche in parte per noi. Quindi per tutti quelli che mi vengono a dire, ah no, voi non prendete G&G e sputate su G&G, sputate su Specna, perché non conoscete? No, noi abbiamo venduto tutte e due, ogni tanto vendiamo tutte e due, ma se abbiamo scelto questa strada, è perché funzionano meglio, abbiamo meno problemi anche noi, nell'aftermarket, nella vendita, e vi vediamo che siete contenti. Quindi quello che c'è qui è perché l'avete scelto voi. Per quelli di voi che ci seguono di più, questa non è una novità, ma visto che molti di voi siete nuovi, e questo è un prodotto nuovo, ve lo dico lo stesso, è possibile fare la casco su questi fucili. Per chi non sa cos'è la casco, comprate una macchina. Scusa, sto scherzando, battuta. Potete fare assicurazione sulla replica, visto che qualcuno l'ha scritto, rispondo anche a questo, la casco copre difetti di fabbrica, danni accidentali alla replica, problemi interni. La garanzia sulla replica, che è di due anni per legge italiana, se lo prendete in Italia, non se lo prendete a San Marino, copre solamente i difetti di fabbrica. Quindi se voi cadete e rompete il fucile, sono affari vostri, non possiamo ridarvelo in garanzia. Se sparando voi fate frullare il motore, perché non sapete ancora utilizzarlo, sono affari vostri, ok? Mentre se utilizzate il fucile, come sarebbe Consono, se fate questo e quell'altro, e vi si spacca, vi si rompe, e vi si rovina un pezzo, noi lo rimandiamo ad Evolution, e ne ve ne diamo uno nuovo, o mettiamo a posto il pezzo, facendocene arrivare uno nuovo. E via discorrendo, non mi sto ad allungare, se volete saperne di più, c'è il video dove spiego, per filo e per segno, queste cose. Quindi concludendo questo mega pippone, Ripper Evolution, per me è un 100% sì, perché è la mitraglietta SMG, che ci serviva in Italia. Come al solito, siamo al Monopoly Software Shop, io sono Red, vi consiglio di dare un'occhiata in descrizione, perché oltre ai link di tutte le repliche di cui ho parlato oggi, ovvero della serie Ripper di Evolution, trovate i link anche del nostro Instagram, dove ci sarà la prova di tiro, che non avete visto qui, la trovate su Instagram, veniteci a seguire su Instagram, Monopoly Software, protino basso Software, sì, siamo shadow bannati, perché trattiamo di armi, quindi armi, di repliche da software, ma non c'è modo di farlo capire a YouTube, e o a Instagram, quindi per favore, veniteci a seguire. Trovate tutto lì, trovate i link delle robe di cui ho parlato, trovate il mio Instagram, dove pubblico tutte le pietana invece, perché sì, ci voleva qualcosa, dove siamo un pochino meno seri, e come al solito, vi ricordo di dare un'occhiata al mega offertone di Natale, e al nostro contest di Natale, non perdetevelo, perché ci sono ricchi premi e continuo. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con me, in questo incredibile sabato, vi auguro un sacco di divertimento, prima delle feste, e durante le feste. Qui da Red è tutto, e come al solito, stay angry! Buongiorno! Buongiorno!